E allora, eccoli partiti! Vediamo se vanno a chiudere... Senza problemi, vabbè! Anche quello che è il Joker Lap... Da in fondo, Marti! ...vanno verso la parte centrale i protagonisti di questa finale. Ultima gara in programma quest'oggi qui sul circuito di Maggiora. Vi ricordo poi le premiazioni in zona ristorante. Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Ateniamo di vedere il primo passaggio. La pontele non ci permette di vedere più nulla, ma eccoli che arrivano al primo passaggio sul rettilineo. Per primo, il numero 15, Cobra! Mo Susi, Carta e Modellini Se si vedi poi da Brunner, Stokner, Wigge, Scuteer e Straub. Te parlano d'erate gli hit. Mo Susi, Carta e Modellini Guardi quattro ruote motrici, impegnati in quest'ultima finale, li vediamo passare larghi e alzare ancora una nuvola di polvere, ma eccoli al secondo passaggio a metà gara. E' fermo in mezzo, è fermo in mezzo alla pista, rimane fermo in mezzo, muove le ruote davanti, Sì, madonna riparte, forse sì adesso, attenzione ce la fa, meno male, si toglie però si mette... E' fermo in mezzo, è un'altra vettura... Ma... Ma in che senso? Aereo, sul circuito... Così... E' fermo in mezzo alla pista, suona la curva... Adesso il muro! Sono fuori dai giochi Sud per Winget, dove mette uno dei due per volare, attenzione, vince! ... ... ... ... il passaggio, il primo giro in tua braccia, davanti a Ziegler, Erbach.